Aria più fresca ed instabile raggiunge le regioni sudorientali, innescando un peggioramento del tempo a causa del passaggio di una perturbazione. Previsioni per domenica 19 giugno. Sulla Puglia cielo sereno poco nuvoloso al mattino, con la possibilità del primo pomeriggio di rovesci temporaleschi. In serata, progressivo miglioramento su tutta l'area adriatica. Temperature che scenderanno intorno ai 23 gradi nel Foggiano, 29-30 sulla fascia tarantino-ionica. 20 deboli di direzione variabile, mari, mosso all'adriatico e restanti bacini.